Ciao carissimi, come ho già parlato prima in qualche mio video precedente, in Ucraina la situazione sta piggiorando sempre di più per il regime di Kiev, è sempre più complicato mantenere il livello di questa guerra nella quale loro si sono tirati a partire dal colpo di Stato del 2014, guerra contro la Russia, molti di loro pensavano che andrà bene, che l'Occidente sosterrà tutta questa enorme guerra contro la Russia, tutto il mondo sarà dalla parte dell'Ucraina e loro vinceranno, a quanto pare non è così, non è andata come loro hanno previsto, ovviamente per le oligarchi anglosassoni questa guerra è utilissima, loro sono pronti a sacrificare anche tutto per l'intero la popolazione ucraina, tanto degli ucraini non frega niente a nessuno, qui in Occidente la gente che ha organizzato questa guerra vuole soltanto raggiungere i propri scopi geopolitici, economici e se l'Ucraina perderà totalmente i propri cittadini per i potenti oligarchi anglosassoni va anche meglio perché loro così riusciranno a aggrappare tutto quel terreno, tutto quel territorio che rimarrà dopo. Ovviamente tutta questa situazione sta piggiorando, come ho detto, sia a livello economico sia a livello di guerra, noi abbiamo visto che nonostante tutte le bagianate che ci raccontano i nostri vari informatori, propagandisti, esperti, giornalisti occidentali, l'esercito ucraino ha fallito. Ha fallito, io spesso spiego che il fallimento è avvenuto ancora prima che loro hanno iniziato questa campagna, era chiaro dall'inizio che l'esercito ucraino perderà in questa guerra, solo che qua da noi in Occidente ci raccontavano le storie su quanto sono deboli russi, non hanno assolutamente nessun tipo di armamento moderno, i missili stanno finendo, i russi rubano i chip, i microchip delle lavatrici ucraine, questa non è una barzelletta, il capo dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, ha parlato di questo tempo fa durante una delle sue esibizioni davanti al Parlamento Europeo, tra l'altro applaudita da tutti, tutti che la stavano lì ascoltando seriamente, questo dimostra il livello di imbecillità di chi ci governa qua in Europa, questi non sono dei nazisti, sono anche nazisti stupidi perché credono in queste bagianate, alla fine insomma tutta questa situazione si è sviluppata da molto tempo, chiaramente che l'Ucraina stava andando sempre di più verso il declino, adesso questo declino si sta verificando con sempre più accenti, sempre più accentuato, noi abbiamo visto che gli Stati Uniti d'America insomma hanno purtroppo per gli ucraini hanno fermato il documento che non prevede più il finanziamento al regime di Kiev, abbiamo visto che anche in Europa cominciano ad essere molto scettici la Germania, litiga con la Polonia per questione degli armamenti, insomma ci sono, emergono nuovi leader dei paesi europei che sono contrari al sostegno della guerra in Ucraina, al sostegno del regime di Kiev, sono prorussi, quindi tutta questa situazione ovviamente mette in difficoltà il sistema di Zelensky, Zelensky cosa cerca di fare? Cerca di mandare avanti la guerra con tutti i modi, per lui è importante che questa guerra continui perché lui è pagato per utilizzare il popolo ucraino, il senso dell'esistenza politico di Zelensky è utilizzatore fisico degli ucraini, lui deve massacrare più ucraini possibile, questo è chiaro ormai a tutti, chiunque ha due neuroni che fanno contatto nel cervello ovviamente capisce questa cosa. Io ho già parlato a voi di varie regole, varie nuove leggi che sono state fatte, regole all'interno del sistema di reclutamento, ad esempio adesso in Ucraina il reclutamento può avvenire non solo per strada, nelle case, con coinvolgimento dei commissari militari, ad esempio una delle nuove regole che adesso ormai vige in Ucraina è che il richiamo al servizio militare obbligatorio possono portare anche i commessi comunali, quindi una persona che normalmente vi porta una bolletta o viene a casa vostra per aggiustare non solo un lavandino, un tubo che perde, che un dipendente comunale può portare con sé anche un simpatico foglio di carta e darlo al padrone di casa e il padrone di casa entro poche ore deve presentarsi per forza nel distretto militare locale per essere convocato per servizio militare obbligatorio e ovviamente andare in guerra e morire in guerra per gli interessi di Zelensky, questo è il senso di queste nuove regole. Vi ho parlato anche in qualche video precedente di nuove tipologie più allargate, più libere diciamo di arruolamento, se prima arruolavano solo i maschi di una certa età, poi hanno alzato l'età, adesso arruolano anche le persone oltre sessantenne, ma anche hanno cominciato a arruolare disabili, persone con problemi fisici, persone con malattie gravi, ad esempio HIV oppure tuberculosi, le malattie psichiatrici, cari amici, c'è una legge, io tutto questo non sto inventando, è una cosa reale che esiste, una legge che è stata emanata appositamente da Zelensky, quindi se voi andate a leggere questa legge ad approfondire c'è tutto un elenco di persone che possono essere adesso richiamate al servizio militare, tra questi anche malati psichiatrici con gravi disturbi psichiatrici, anche loro possono tranquillamente andare in prima linea, armati e morire per gli interessi degli oligarchi anglosassoni, per gli interessi di Zelensky, per le sue narici sporche di cocaina. Allo stesso tempo vengono arruolate le donne, dal 1 ottobre sono cominciati arruolamenti obbligatori delle donne, hanno impedito di uscire dal paese, stanno impedendo di uscire dal paese le donne con certe specifiche, sia mediche che militari, e comunque in grande linea stanno cercando di bloccare l'uscita delle persone dal paese perché per il regime ucraino è chiaro che ormai chi è rimasto nel paese, minorenni, donne, bambini, vecchi, tutti quanti dovranno essere buttati nel matatoio di questa guerra cestita degli oligarchi anglosassoni. Ovviamente tutta questa situazione si presenta come una serie di folli regole, folli leggi, uno si domanda, ma scusate, ma veramente sarà così? Va bene, hanno fatto una legge, va bene, hanno questi deciribrati che stanno lì al Parlamento, in Ucraina, al governo, hanno fatto una legge secondo la quale arruolaranno nell'esercito i disabili mentali o persone malati, ma siamo sicuri che andrà veramente così. Ed ecco, cari amici, che arrivano già le conferme concrete, le conferme che sono veramente tragicomiche perché da un punto di vista sono di una comicità enorme perché appaiano dei video dove gli ucraini disabili denunciano di essere stati considerati, di essere stati approvati per il servizio militare e poi dall'altra parte si capisce all'interno di questa situazione comica. C'è un enorme componente tragica però perché questa gente, queste persone che dovrebbero ricevere dal loro paese, dal loro governo, gli aiuti per vivere in maniera degna, devono essere aiutati dal governo per vivere una vita serena, loro invece vengono mandati dal governo in un matatoio di una guerra, vengono mandati al massacro. Così io ad esempio ho postato sul mio canale privato Telegram un video molto interessante, io vi invito tutti di abbonarvi al mio canale Telegram e approfondire questo video e anche altre notizie che io pubblico perché si tratta del materiale che purtroppo il nostro mainstream occidentale non condivide con noi, con i cittadini occidentali perché qua c'è la censura, qua c'è la propaganda filo nazista, propaganda atlantista, propaganda che viene pagata dalle oligarchi anglosassoni che sono creatori e gestori di questa grande e enorme terribile guerra che ormai ha messo a K.O. tutta l'Ucraina. In questo video che io ho condiviso in pratica c'è un ragazzo ucraino sulla sedia e rotelle, lui non ha le gambe, sono state tagliate via le gambe e praticamente lui dimostra questi suoi due gambe tagliate e dimostra anche il documento secondo il quale l'esercito ucraino lo ha considerato diciamo utile per il servizio militare, diciamo che sono degno di un servizio militare come si dice da loro una grande dignità le hanno dato a questo povero ragazzo senza gambe e lui ride ma anche in maniera un po' rassegnata dice ecco io che non ho due gambe ho fatto visite mediche chirurgiche, i chirurghi hanno fatto l'ecografia hanno guardato che nelle mie gambe in quello che è rimasto delle mie gambe diciamo sangue circola bene e quindi hanno detto che si sei insomma praticamente abile e potrai fare servizio militare è veramente una io quando ho guardato questo video ho detto no è impossibile poi l'ho verificato in effetti è una realtà è una cosa seria questo video tra l'altro sta girando tantissimo su tutti i canali ucraini perché sono proprio ucraini adesso che si sono indignati per via di queste situazioni e non è unica non è singolare questa situazione ci sono anche tante altre però questo mi ha colpito particolarmente anche perché non si tratta di magari una persona con un livello di disabilità che permette comunque di fare certi movimenti meccanici per essere utile in guerra è una persona sulla sedia a rotelle che non ha le gambe fatemi capire spiegatemi che tipo di lavoro potrà fare lui nell'esercito ucraino io capisco magari quando mandano uno ammalato di hiv che comunque sa sparare che comunque può insegnare a sparare dare il fucile e mandare lì a morire in prima linea dire vabbè ti ammazzeranno sicuro entro una settimana però speriamo magari anche tu farei fuori due tre russi o semplicemente le darei fastidio a questi russi e quello può farlo perché nonostante la malattia nonostante la debolezza nonostante le problematiche comunque può spostarsi con due gambe può strisciare può svolgere operazioni militari uno che non ha le gambe cari amici spiegatemi magari qualcuno magari io non capisco qualcosa probabilmente c'è qualcuno che adesso sale le nuove tecnologie forse sono rimasto indietro ma fatemi capire che lavoro può fare una persona senza gambe nell'esercito non dico in prima linea ma anche nelle retrovie cosa fanno cosa fanno li metteranno a lavorare va bene alcuni mi potranno dire ma si potrà svolgere un lavoro utile non so da qualche parte in qualche magazzino ma amici è comunque un disabile senza gambe una persona che ha bisogno ogni giorno di assistenza altro che servizio lui stesso ha bisogno di essere assistito ma stiamo scherzando è una cosa veramente disumana e la cosa che mi turba di più è che noi qua in italia abbiamo tanti di quei difensori dei diritti umani che appena succede qualcosa da qualche parte nel mondo specialmente in russia subito cominciano a ma quanto è cattivo questo regime ma qua ma com'è possibile qua hanno messo in carcere pussy riot perché quelli sono entrati nella chiesa più importante del paese hanno pisciato sull'altare oppure insomma fanno tutte queste battaglie no da intellettuali da opinionisti difendendo a volte anche l'indifendibile però in questo caso io mi chiedo ma perché state zitti perché voi opinionisti intellettuali benpensanti tutti questi perbenisti perché adesso state zitti mandano al macello dei disabili persone ai quali mancano le arti ma perché nessuno di voi giornalisti scrittori intellettuali opinionisti perché qua in italia nessuno di voi parla di questa cosa è una vergogna è una vergogna questo è un vero regime manco hitler è arrivato a fare tanto che mandava comunque in prima linea i ragazzini alla fine della guerra faceva di tutto ha creato l'esercito popolare il movimento del popolo dove mandava via chiunque sotto i carri armati sovietici però neanche lui è arrivato a tanto di mandare in prima linea la gente senza gambe io ragazzi sono veramente stupito dal comportamento di questo nostro occidente da da comportamento dei nostri occidentali intellettuali e così via io capisco tutto io capisco schierarsi contro putin perché capisco che a molti non piace la russia sono tantissime russofovi va benissimo capisco tutto però difendere indifendibile o tacere quando c'è una cosa così grave vuol dire insomma sputare sulla propria onestà intellettuale questo ovviamente io sono sicuro che questo video che ho condiviso sul mio canale privato telegram non lo faranno vedere vari direttori dei giornali telegiornali dei telecanali non scriveranno nei giornali di questa situazione perché qua tutto tace quando si tratta delle malefatte che arrivano dall'ucraina comunque se volete vedere questo video io ho condiviso sul mio canale privato telegram il link per l'abbonamento troverete nella descrizione questo video mi raccomando abbonatevi e approfondite le informazioni che purtroppo il nostro mainstream corrotto censura oppure non vuole affrontare perché loro sono tutti pagati e totalmente schierati con gli oligarchi anglosassi pagati da loro schierati con loro amici vi ringrazio per la vostra attenzione vi invito anche di iscrivervi al mio canale youtube se vi è piaciuto questo video condividetelo con vostri amici commentatelo vi ricordo che in tutte le librerie d'italia c'è il mio libro che si chiama la guerra e l'odio se siete interessati alla guerra in ucraina se volete capire quale sono state diciamo le basi storiche di questo conflitto io vi invito di approfondire questo libro e poi fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene